1 a 0 contro la roma all'olimpico 1 a 0 contro la fiorentina al ghevi stadio questa è la dea squadra che ripeto perché poi sarò noioso non è bella come gli anni scorsi segna anche meno mai fatti e cinismo un gol un gol anche adesso tra roma fiorentina due gol sei punti a pari punti collata col napoli la dea prende tre punti pesanti tre punti pesanti e lo fa comunque grazie a una giocata di un giocatore che si chiama luiz muriel che poi praticamente serve il compagno facile lucman a far gol perché se luiz muriel non si mette quella giocata e non supera se non sbaglio in questo caso martinez quarta il gol non arriva ragazzi il gol è tutto di luiz muriel o perlomeno l'ottanta per cento 90 per cento e di luiz muriel ripeto rata che crea anche meno se vogliamo oggi una partita a ritmi alti con poche occasioni perché per me ritmi sono stati alti ma le occasioni non sono stati tantissimi ecco nel primo tempo sì un calcio di punizioni di muriel dove la palla esce fuori di poco un tiro di muriel anche in questo caso dove la palla esce fuori di poco ma c'era offside e nel finale coop mainers no a tu per tu con terraciano che riesce a saltarlo a tirare ma terraciano fa un buon muro e fa una buona parata a un certo punto terraciano buca anche un intervento dove veramente lì ha lasciato la porta scopertissima per fortuna c'era martinez quarta a fianco a spazzare perché se no muriel ne approfittava andava in porta però fiorentina per il resto ha fatto poco come ha fatto poco l'atalanta perché è già l'atalanta ma come ha fatto poco anche la fiorentina la fiorentina ha fatto qualche tiro quella con saponara dove il più pericoloso è stato quello dove sportiello non è riuscito a bloccare infatti poi si è dovuto a fiondare sul pallone su barack per poter appunto far sì che non che barack non non battesasse il rete ecco però anche lì poi per il resto mi ricordo veramente poche poche occasioni da fiorentina un tiro di venuti centrale cioè veramente faccio fatica da una parte dall'altra guardare qualche azione infatti per me lo 0 a 0 alla fine era giusto a fine primo tempo nel secondo tempo però secondo me è giusto che l'atalanta vinca un rosso comunque poi annullato acqua me giustamente perché la gamba era molto alta però poi l'arbitro non alvar vede che non lo prende quindi nel senso giusto il giallo però intanto nel secondo tempo le occasioni migliori l'ha avuto comunque la dea la dea ragazzi dove praticamente appunto c'è mure che si inventa una giocata bellissima la posizione defilata saltando martini a squarta mette questo pallone al centro per lukman che da due passi trova il gol e non sbaglia lukman e quindi atlanta va il matricio sul 1 a 0 la sede atlanta che poi alla fine volendo può avere anche il gol del raddoppio con mele tu per tu col portiere terraciano in uscita mele tira un tiro rasoterra piazzato rasoterra brutto e terraciano comunque in uscita fa la sua parata se lì mele fa uno scavetto comunque prova a saltare il portiere molto probabilmente fa il gol del 2 a 0 e quindi mele non riesce comunque a chiudere questa partita ma dal lanta capendo che poi la fiorentina mettendo anche jovic no di davanti con cabral due punte pesanti perché la fiorentina parte senza punte obiettivamente parlando oggi italiano parte con un falso 9 un tridente falso 9 dove tutti giravano mettendo quei due punte pesanti qualcosina in più si è visto qualche colpo di testa in più demirale ha quasi rischiato un autogol jovic comunque che riesce a girarsi bene e sportiello anche lì è stato costretto la parata qualcosina in più si è vista la parte della fiorentina con le due punte però è troppo poco quante volte vedo che questa fiorentina gioca bene automaticamente ma segna e crea poco cioè che segna poco oggi ha giocato così e così ma ennesimo risultato dove la fiorentina esce con zero gol e questa cosa qua italiano deve migliorarla perché a lungo andare può essere un problema ragazzi può essere un problema dall'altro canto c'è una squadra organizzata perché la fiorentina è vero avrà fatto zero gol ma qualcosina ha provato a creare provato a costruire se poi dall'altra parte c'è una squadra organizzata come la dea che tempo fa pensava solamente a segnare a bel gioco e poi della difesa quel che succedeva succedeva quest'anno invece è una squadra completamente diversa lo ripeto perché segnano ma allo stesso tempo sono molto attenti in difesa poche sbavature cioè la dea perde palomino per doping che comunque è un'assenza pesante cioè ti inventa questo ocoli di dietro che ragazzi tiene botta questo ragazzo a me è questo che piace della dea cioè il settore giovanile giovani che butta dentro a me così che piace ocoli scalvini ragazzi questo caso è gente in difesa molto interessante con dei mirall affiancati dei mirall ha un toloi manca ancora gine city perché poi gine city dovrà tornare la dea ragazzi è una bella squadra una bella squadra c'entro campo sempre cup manners comunque c'è sempre comunque anche molto bravo ederson basalic malinowski è una bella squadra una bella squadra ed è una squadra organizzata quest'anno è una squadra organizzata non stupefacente a livello di gioco ma i fatti parlano chiaro la dea è lì davanti insieme al napoli quindi complimenti a gasperini che è riuscito a vedere il suo modo interpretare e cambiare il suo modo di giocare e adattandolo a questo modo che in questo momento può essere efficace uno che dovrebbe infatti rivedere un po suo modo di giocare e di credersi un po su se stesso visto che il suo modo di giocare non porta più risultati al signor allegri io spero che allegri faccia con gasperini che se vede che comunque questo tipo di gioco non ti porta punti perché questo momento l'avventus non fa punti fa pochi punti devi cambiare gasperini l'ha fatto ha cambiato il suo modo di vedere il calcio ha cambiato il modo di far giocare l'atalanta perché è cambiata ragazzi l'atalanta è cambiata io la guardo da tre anni l'atalanta attentamente non è l'atalanta degli altri anni eppure però struttura solita squadra solita così che si fa così il calcio si rivoluziona anno per anno e ogni anno tu qualcosa devi cambiare gasperini l'ha fatto quindi complimenti niente ragazzi di che io dopo finire qua se vi ci lasciano un bel like adesso vorrei venire la e siete iscritti staccosti nulla mi sono riuscita solo fatevi ringrazio di cuore condividi video con i vostri amici per scrivere anche loro e altrimenti le notifiche così non per questo video passate anche sul link di istituzione a barri sui cianni è il link al mio figlio ritorno che è tutto bella